Un invito a sostenere la città di Porto Empedoco nella trasmissione di Rai 2 che andrà in onda sabato e domenica a mezzogiorno in famiglia dalle 11 in poi fino alle 13 in un video realizzato dagli organizzatori locali che viene trasmesso in queste ore anche sui social. Dopo il passaggio del turno con la vittoria sulla squadra di Bobbio la città marinara ci ritenda anche questo fine settimana. L'obiettivo da raggiungere in caso di vittoria è l'assegnazione di uno scuolabus che la trasmissione del regista Michele Guardi condotta da Adriana Volpe e Sergio Fiscia mette in balio come premio finale. Anche in questa puntata Porto Empedoco le metterà in mostra le sue bellezze, le sue prelibatezze per poter sperare di superare il turno. Per il resto il programma non è stato svelato per via degli accordi con la Rai ma sicuramente la partecipazione della Bravia Giulia Letto che con la sua voce ha dato lusso alla scorsa puntata sarà determinante. Verranno altresì esposti anche prodotti artigianali locali e non mancheranno le sorprese no gastronomiche tipiche nostrane per poter vincere la gara tra la squadra Empedocline e l'altra partecipante del comune di Savona. L'invito quindi a televotare è necessario per tutti. Allora diamo appuntamento su Rai 2 a me soggiorno in famiglia dalle ore 11 di questo sabato e domenica.